il carattere 100.000 chilometri per prendere quello di sudostale si, in 4 anni che aveva fatto io non l'ho mai fatto e ne ho cammino grazie complimenti di buon veramente e gira l'italia lungo e largo e allora arriva vuol dire che è che mano sotto cosa è vera? anche macchina e non lo guarda non lo guarda rinchi per carrozare ma che cosa dice è una e un'altra due nodi io non la non lo guardare di più ma che cosa dice tre Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì.